Agli inizi del mese, durante i lavori del Consiglio Comunale di Gela, si registrarono forti tensioni sulla vicenda che interessa i cimiteri, in particolar modo sul project financing da diversi milioni di euro per la costruzione dei nuovi loculi Farello, un progetto spuntato durante la discussione sul piano triennale delle opere pubbliche presentato in aula prima della pausa di Natale dall'assessore ai lavori pubblici Carmelo Casano. Alla fine il progetto fu eliminato anche a causa dell'assenza di vere informazioni sull'intero procedimento. I consiglieri comunali non se la sentirono di dire sì in assenza di elementi chiari sull'intera vicenda. Dopo pochi giorni da quel no, il gruppo edile Russello presentò una nota che arrivò direttamente sui tavoli degli uffici di Palazzo di Città. La realizzazione di nuovi loculi infatti rientrava in un progetto più ampio firmato proprio dall'azienda locale, che non a caso espresse tramite i suoi rappresentanti netta contrarietà alla bocciatura consigliare, facendo riferimento ai tanti danni economici prodotti dall'inatteso dietro front. Ed è di questa mattina l'acquisizione di documenti da parte dei militari della Guardia di Finanza diretti dal capitano Massimo De Vito. I nabiti civili e con auto civette sono piombati al Palazzo di Città e negli uffici del settore servizi cimiteriali. Hanno requisito materiale ritenuto di fondamentale importanza per chiarire nei dettagli cosa è realmente accaduto sulla vicenda di un progetto privato così vasto. Gli inquirenti hanno acceso i riflettori perché sentono puzza di bruciato, soprattutto in considerazione del fatto che proprio nella seduta consigliare del 7 gennaio scorso nessuno dei consiglieri era al corrente del piano di lavoro edilizio. Intanto, proprio a Farello, continuano i lavori delle confraternite. Si tratta di cantieri avviate dalle 14 confraternite che stanno realizzando circa 252 nuovi loculi per concessione. Allo stato attuale solo i cantieri di due delle confraternite coinvolte sono stati ufficialmente conclusi. Le stesse confraternite, che a loro volta hanno appaltato i lavori edili a diverse aziende locali, attendono il via libera dai uffici del settore urbanistica per le autorizzazioni necessarie alla costruzione a scomputo dei costi delle aree di altri mille loculi. Alla fine si tratta di un giro d'affari superiori a 10 milioni di euro. E questa mattina, come dicevamo, Blitz della Guardia di Finanza al Comune.